Abbiamo bisogno di te, Skitch. Che ne dici di sostituire Chad solo per stasera? È perfetto! Ottimo! Chad ci ha messo una settimana per imparare. Chad, chi è Chad? Signor White. Beh, ho sentito il vostro disco, Guy, e mi piace. Mi piace molto. D'ora in poi vi chiamerete semplicemente i Wonders. Sto parlando di un gruppo tutto di casa nostra, i meravigliosi Wonders! Scritto e diretto da Tom Hanks, Music Graffiti. Giovedì alle 20.55.